Ciao, amici. Oggi abbiamo una challenge davvero divertente. Cos'è sto coso? È quello che dobbiamo capire. Scopri cos'è challenge! Volete partecipare anche voi? Guardate il video con i vostri amici e cercate di indovinare a cosa serve. E non barate andando alla fine del video. Vi tengo d'occhio. Allora, chi va per prima? Io, io! E sarò anche l'ultima perché questo, amici, è chiaramente un pettine! E tu l'hai chiaramente impigliato. Qualcuno me lo tira via, per favore! Ma certo! Sei sicuro? Sì? Corri e vedrai! Aio! Ok, non è una palla da football futuristica. Certo che no! Perché questo coso è un semplice, stupidissimo porte oggetti! Aspetta! Non usare proprio quello costa un sacco di... Ops. Ho una cassaforte! Ho un aereo! Un libro! Ho la cassaforte di un aereo! Sì, un libro! Ci sono! Se stringo gli occhi vedo delle parole. E se fossi... VIVO! Amico, riesci? Riesci a sentirci? Puoi dirci da dove vieni? Si può sapere perché parlavate a un temperino? Boh! Aaaaaah! Vi è piaciuto questo video? Cliccate qui per vederne un altro e qui per attivare le notifiche. Ehi, e questo a cosa serve? Cliccate qui per attivare le notifiche. Grazie.